Quali saranno le novità per quest'anno per quel che riguarda il mercato contadino? Il mercato contadino di Campania Amica quest'anno riserverà buone sorprese, belle sorprese, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento e l'immagine che la filiera corta deve avere, l'importanza a livello territoriale e paeseaggistico che ha la filiera corta, quindi ogni operatore del mercato di Campania Amica sarà investito nella possibilità di trasferire ogni volta durante il mercato il perché e di come si arriva ad avere un prodotto tipico e di qualità. Saranno coinvolte anche le scuole qua ad Arco, infatti già con martedì che inizierà il mercato avremo la visita da parte della scuola d'infanzia. Il mercato contadino lo riproponiamo sostanzialmente nella stessa versione dell'anno scorso, eppure avendo fatto un bando di assegnazione definitiva per i prossimi tre anni, sempre giudicato da col diretti, si struttura su Viale delle Palme con 12 operatori che hanno aderito fino ad ora su 14 posti disponibili, ma rimane evidentemente aperta anche la possibilità di agganciarsi durante il percorso e contiamo di chiudere anche in termini numerici. È il martedì mattina dalle 7.30 alle 12.30 e speriamo che abbia il successo e l'interesse da parte della comunità che è stato evidente e ci è stato anche così riferito dagli operatori che hanno inteso riconformare la loro presenza per i prossimi anni.